salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora prima di iniziare vi ricordo attiviamo la campanellina iscrivetevi al canale e condividete il video gratis e ci sostenete molto quindi dai ragazzi continuiamo in questo percorso spettacolare detto ciò bando alle ciancio ciancio alle bande oggi ottavi di finale svizzera italia che dire oggi affrontiamo una svizzera che sicuramente non è la svizzera delle scorse competizioni non è la solita svizzera una svizzera che arriva molto come posso dire molto carica a questo scontro affrontando delle partite importanti non arriva prima però ragazzi posso assicurare ho visto le partite e giocano molto bene molto veloci giocano soprattutto sulla punta di sponda i giocatori del centrocampo soprattutto li trovi ovunque in qualsiasi spazio e attaccano veramente compatti soprattutto sulle fasce staremo a vedere quest'oggi perché il mister si trova a fare un cambio forzato come in difesa a calafiori vedremo chi schiererà vi dico la verità spero no mancini abbiamo buongiorno spero non di vedere mancini che è l'anticalcio in campo però va bene staremo a vedere e soprattutto a quanto sembra cambierà qualcosa a centrocampo al di là di questo io spero di vedere un'italia diversa un'italia che lotta che entra in campo con la cattiveria giusta perché vuole portare il risultato avanti che sia più compatta che giochi di squadra e non l'italia che abbiamo visto fino ad ora e diciamo la verità ce la siamo cavata per la rotta della cuffia quindi staremo a vedere ottavi ricordatevi siamo italiani forza italia e ci vediamo a fine partita ed eccoci qua ragazzi partita terminata la svizzera ci devasta la svizzera in campo quest'oggi sembrava l'argentina l'italia non è mai entrata un primo tempo con 65 per cento di possesso parla della svizzera ci siamo salvati per l'arrotto della cuffia svariate volte grazie sembra solito donna rumma però poi prendiamo un gol perché non siamo in grado ragazzi e sapete qual è la cosa che mi fa più male è che noi siamo i campioni d'europa in carica e non siamo stati capaci di cacciare un po di cattiveria per cercare di ristabilire la partita c'è un primo tempo imbarazzante il mister adesso dovrà spiegare il super fagioli che si è portato il fenomeno che non ha giocato per un anno però no è forte ragazzi si è allenato comunque come se poi l'allenamento fosse la stessa cosa della partita e quest'oggi rivoluzione il centrocampo mettendo fagioli e cristante con con il solito barella che però pure lui quest'oggi inesistente in mezzo al campo e quindi abbiamo giocato senza centrocampo paradossalmente una difesa che giustamente noi abbiamo il super mancini fenomeno manca calafiore abbiamo un buongiorno un giovane prometedne forte abbiamo gatti che comunque esperienza ne ha e però il mister dice io che sono il messie ne capisco mettiamo a bastoni con l'influenza e a mancini che è un top player da bayern monaco real madrid quindi ci vuole continuiamo a far giocare di lorenzo che ovviamente penso dopo questo europeo sa che deve stare solo in silenzio perché è inguardabile alla stessa cosa ad armian noi abbiamo comunque in panchina bella nova che è un giocatore da tutta fascia ma teniamola in panchina non fa niente perché poi i cambi saranno sempre gli stessi e sono stati anche quest'oggi sempre gli stessi ridicoli assurdi e vi dico una cosa forse andrò a contocorrente quest'oggi non me la prenderò con scamacca sono onesto perché mezza palla non gliel'hanno servita cioè la svizzera giocava palla a terra fraseggio e cercava di metterla centrale sull'attaccante in volo mentre noi giocavamo palla lunga e pedalare perché non eravamo in grado di fare tre passaggi sulla loro pressione di uscire e di ricerche quando andavamo in fase difensiva a un certo punto a chiesa si trovava centrocampista dovevamo ripartire non eravamo mai in grado di partire perché tutti i giocatori erano fuori posizione e quindi l'italia non è mai esistita ed oggi penso che sia un'umiliazione unica il mister lo deve dire deve avere il coraggio di dire sono venuto qua come il messia poi ho fatto delle convocazioni un europeo imbarazzante perché poi la fortuna è finita ragazzi la fortuna è finita albania 2 a 1 e alla fine non la pareggi per fortuna con la croazia al photo finish per fortuna sono errore loro la pareggi e vai avanti e ovviamente non potevamo pensare che poi andavamo agli ottavi avevamo ancora fortuna perché i nudi sono arrivati al pettine si è visto quanto sono imbarazzanti alcuni giocatori mettiamo due punte perché diciamo no andiamo in porta adesso con due punte ribaltiamo tutto avete visto quella porta no una azione cessata con scamacca che la mette sul palo che si capisce come ci vai avanti la porta è nulla però noi teniamo a foloruscio teniamo a bellanova buongiorno giovani che sono realmente promettenti li teniamo in panchina perché ci vuole ci sono i giocatori che del real madrid ragazzi che devono giocare non possono giocare giovani promettenti poi diciamo che la nazionale deve valorizzare i giovani sì ok sì mister hai ragione tu hai fatto un grande lavoro quindi questo è tutto ciò andiamo a casa sono finiti gli europei abbiamo preso la scuffia ci hanno messo in imbarazzo avanti tutti europa essendo i campioni in carica noi e questo il mister deve fare un mea culpa grande perché noi siamo i campioni di europa in carica e siamo stati umiliati cioè facciamo non abbiamo manco provato a difendere però va bene questo è tutto ragazzi finisce il nostro percorso fatemi sapere la vostra nei commenti babba sono a tutti e rimanete sintonizzati che a breve ci saranno tante novità